Ciao ragazzi sono Sette, benvenuti in un nuovo video. Allora, la mia intenzione iniziale era fare il video dello spin-off di Game of Thrones per vedere quale potevano essere le possibili trame che si potevano sviluppare in futuro. Ma poi, ma poi, uno di voi mi ha girato questo bellissimo articolo contenente dichiarazioni dei cari D&D, Benioff e Weiss, sceneggiatori di Game of Thrones, da Dagli Antipodi, e devo dire che mi sono inalterato per usare un eufemismo, per non dire che ho preso un contenitore e l'ho fracassato contro il muro, non so neanche che c'era dentro. Tale articolo riprende un'intervista fatta a Benioff e Weiss all'Austin Film Festival di poco tempo fa, sul fine di ottobre. Vi linkerò qua sotto in descrizione l'articolo contenente anche i tweet di Benioff e Weiss riguardo a questa intervista. È qualcosa di veramente, veramente atroce, dovete assolutamente guardarlo, ma ve lo spiego in, diciamo, in pochi minuti. Dunque, Benioff e Weiss partono dicendo che erano totalmente inesperti quando avevano iniziato Game of Thrones, non avevano alcune esperienze di sceneggiatura e non sanno perché Martin aveva affidato loro questo progetto. E inoltre, la pilot, ossia la prima stagione di Game of Thrones, o quella originale, non quella che è andata in onda, era totalmente una schifezza che era stata bocciata dal co-sceneggiatore Craig Mazin. Fortunatamente per Benioff e Weiss, o per sfortuna per noi, le prevendite di Game of Thrones serie TV all'estero erano così importanti che HBO ha deciso comunque di finanziare il progetto. E quindi a Benioff e Weiss hanno riscritto, seguendo appunto la linea di Martin, la prima stagione e tutte le stagioni successive. Avevano capito che da soli non potevano fare un cazzo di niente, quindi hanno seguito appunto la linea di Martin per poter realizzare le prime stagioni. Tutto quello che potevano sbagliare all'interno del primo pilot l'hanno sbagliato. I costumi, le scelte di trama, i vari personaggi, hanno sbagliato tutto completamente e sono stati scostetti ad iscriverlo un'altra volta. Ripeto, non avevano la minima idea di quello che stavano facendo e per loro che mostrano sia stata una costosissima scuola di palestra, di sceneggiatura? Ma che cazzo? Io non c'ho nulla contro il mandare nuovi talenti nella sceneggiatura. Ma cazzo, talento deve essere, cioè deve conoscere, deve saper fare qualcosa. Questi qui non sapevano fare un cazzo dall'inizio e l'hanno anche ammesso. Leggetevi l'articolo, non sapevano fare un cazzo già dall'inizio e non sanno del perché, appunto, hanno ricevuto l'incarico di scrivere la sceneggiatura. Inoltre, Band of Hawaii sono stati accusati in una scarsa inclusività da parte, appunto, degli autori della serie. Ma il fatto è che loro scrivano la sceneggiatura per conto loro senza includere alcun altro, nessun altro, appunto, per intervenire sulla sceneggiatura. E che quello che scrivevano era quello che si doveva fare. Basta, non c'era possibilità di escursione, possibilità di ampliamento, possibilità di critica. No, quello che scrivano era quello che si doveva fare. Traspare anche l'arroganza infinita di questi due. E poi un'altra roba che non sta né in cena né in terra è il fatto che loro hanno sempre sostenuto di essere i grandissimi fan della saga delle cronache del ghiaccio e del fuoco ma hanno ammesso, appunto, in tale tweet ripeto, leggete l'articolo qua sotto in descrizione che, appunto, il periodo in cui ero lavorato a Game of Thrones ossia dieci anni o addirittura di più è stato come andare in una di quelle feste dove sei costantemente ubriaco nel senso, con fatica, con reluttanza con, cioè, con proprio non voglia di fare con esasperazione, capito? Per essere dei grandi fan di Game of Thrones diciamo che, per essere quelli che scrivono la cazzo di sceneggiatura di Game of Thrones cazzo, guarda quanta cazzo di passione ci mettono. inoltre hanno specificatamente detto, come molti fan sostenevano che hanno allargato a un pubblico sempre maggiore il target di Game of Thrones e volevano togliere tutti gli elementi di fantasy perché non volevano puntare a un pubblico di genere come poteva anche aspettarsi il fatto che Game of Thrones nonostante sia una serie che punta anche sul realismo ci sono elementi di magia molto importanti eppure, eppure questi qui hanno cercato di togliere il più possibile dei dettagli elementi dalla sceneggiatura in quanto volevano rivolgersi a un pubblico sempre più ampio volevano fare una serie globalizzata perché si volevano rivolgere a madri, giocatori di football promotori finanziari e postini e anche ci sia venti di male, ma tipo che cazzo, perché cazzo ti vuoi rivolgere a tutta sta gente se poi la sceneggiatura fa cagare, porca puttana! veramente tutte le critiche che ho ricevuto per le mie recensioni su Game of Thrones 8 adesso io vorrei vedere quelli lì che mi inviando a spiegare queste cazzo di dichiarazioni che difendevano D&D o non avevano idea di che cazzo stavano facendo ma vi rendete conto? La roba che ha fatto incazzare i fan più di qualunque altra, me compreso è il fatto che si sono totalmente disinteressati delle opinioni del pubblico delle opinioni dei fan, delle critiche dei fan o anche semplicemente delle azioni dei fan tra cui le reazioni dei fan alle varie stagioni o diciamo comunque all'opinione pubblica riguardo alle stagioni, soprattutto alle ultime di Game of Thrones infatti Vice non ha mai dato ma neanche proprio zero, zero non sapeva neanche che ci fossero tutte queste espressioni, faceva finta che non ci fossero tutte queste espressioni di contrarietà nelle ultime stagioni di Game of Thrones oppure anche semplicemente apprezzamenti non ne teneva comunque conto perché non gliene ha mai fregato di niente a Vice di appunto leggere le opinioni dei fan o comunque sentire le loro critiche oppure capire ciò che poteva essere fatto meglio oppure, come dire, qualcosa che era fatto abbastanza bene che si poteva migliorare no, non ha dato alcun peso a tali critiche o a tali opinioni invece Benioff è rimasto sconvolto dal fatto che quando ha googolato ha proprio scritto è proprio googolato reazioni Game of Thrones è rimasto sconvolto dal fatto che c'era tantissima gente che appunto era contrario alla loro sceneggiatura comunque alle loro recenti stagioni aveva fatto più o meno, mi pare, alla fine della settima stagione comunque è rimasto sconvolto da questo io dico come cazzo fai a rimanere sconvolto se sei il cazzo di sceneggiatore di Game of Thrones? qualcosa ti verrà all'orecchio io non ci voglio credere minimamente che Benioff e Weiss non avevano la minima idea di quello che si stava trattando a proposito della loro serie perché è una delle serie se non la serie più diffusa a livello globale quindi io mi chiedo porca di quella puttana perché cazzo non hanno ascoltato le critiche dei fan? perché semplicemente non ne fregava un cazzo non ne fregava niente volo solo intascarsi i soldi porca di quella puttana per fare una sceneggiatura del cazzo e per attirare avanti il brodino più che potevano appunto con questa cazzo di storia che poi vabbè insomma sappiamo tutti com'è andata la fine dell'ottava stagione un nulla assoluto assolutamente nulla inconcludente Joe Snow rivelato come Aegor Targaryen inconcludente assolutamente vogliono tirare appunto il brodino su questa roba il più a lungo possibile e poi rivelarsi una totale cazzata così come la fine del Night King così come la morte di Cersei così come la pazzia di Daenerys tutte stronzate tutte stronzate tutte stronzate scritte da D&D poi D&D sono anche due imbecilli perché a seguito appunto dell'unica diciamo come dire considerazione per i fan che avevano consigliato quando stava per essere prodotta la serie di Game of Thrones avevano immaginato un interprete per il personaggio di Khal Drogo appunto i fan avevano indicato come personaggio appunto Clue Jason Momoa autore notissimo da tutti e appunto loro avevano ascoltato quest'unica quest'unico consiglio gli avevano appunto fatto Jason Momoa come Khal Drogo il problema qual è? è che poi non hanno fatto nient'altro appunto per andare d'accordo con i fan forse e a seguito della grande popolarità che ha avuto il personaggio di Khal Drogo attraverso Jason Momoa dovevano ascoltare di più le critiche o comunque le suggerimenti dei loro fan per i personaggi per le scelte appunto di sceneggiatura anche solo dei piccoli consigli qua e là potevano anche ascoltarli no non volevano ascoltarli perché semplicemente non lo so si volevano chiudere nell'illusione che tutto quello che facevano era posto ma erano consapevoli del fatto che non era posto quindi di che cazzo stiamo parlando? in conclusione vorrei dire che chi ha apprezzato la stagione 8 comunque le ultime stagioni di Game of Thrones può andare tranquillo con il suo pensiero cioè non è che io ho venuto qui con il punteruolo a dire la stagione è una merda tutti devono schifarla no assolutamente però oggettivamente si deve dire che è un lavoro fatto alla cazzo di cane totalmente alla cazzo di cane perché non avendo più la linea guida di Martin a partire dalla quinta stagione Game of Thrones sono partiti in quarta a scrivere tante di quelle stronzate che adesso io non sto qua a elencare ma che dovrei elencare successivamente in futuro il punto è che questi due ci hanno mentito fin dall'inizio riguarda appunto alla loro onestà intellettuale verso lo show al fatto che loro tenevano conto delle opinioni dei fan che loro non amavano la serie che loro appunto includevano chi potevano a tra l'altro un'altra cosa che ha fatto incazzare a morire i fan è il fatto che durante le riprese mentre gli attori si impegnavano si facevano in quattro per legare sta merda di sceneggiatura loro si fumavano la sigaretta stavano lì per i cazzi loro non curavano più di tanto come facevano gli autori cioè erano andati lì a fare un cazzo cioè dopo un certo punto un'arroganza talmente grande che si cretevano in questi cazzo di dei della sceneggiatura mentre fanno a cagare cazzo D&D fanno cagare è per questo che sono stati appunto cancellati la sceneggiatura della nuova trilogia di Star Wars non so se avete letto ma leggete sono stati segati appunto dalla nuova trilogia di Star Wars io veramente questi due non ho parole sono vergognosi assolutamente vergognosi hanno mentito ai fan hanno mentito appunto anche alla stessa serie veramente non so che altro dire se non il fatto che potevano fare meglio anche se disprezzavano magari se per loro era una tragedia per loro era un'esagerazione continuare ad andare avanti con Game of Thrones potevano realizzare qualcosa di buono se si impegnavano un attimino perché voglio dire non è che scrivi una sceneggiatura e non sai fare un cazzo qualcosa saprai fare quindi potevano impegnarsi molto di più io non so cos'altro dire e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video in cui parlerò finalmente dello spin off di Game of Thrones che ci sarà non diretto da sti due grazie a Dio